Fotini Peluso, il regno, tu sei Lisa, una ragazza che è proprio nata in questo Medioevo, seppur ricreato, insomma. Chi è questa Lisa? Lisa non ha mai visto nulla che non sia parte del regno, quindi nulla che non sia parte del Medioevo. Nonostante questo, a differenza per esempio del personaggio di Silvia, Ophelia, non è minimamente una sprovveduta. Diciamo che Ophelia è comunque una parte molto naive, è un po' una bambina per certi versi. Lisa invece ha 50 anni più di tutti là dentro in pratica, tutto di Stefano, rispetto al fratello più grande lei lo strapassa proprio, non essendo ancora maggiorenne mi sembra. È molto matura, non è per niente sprovveduta, vuole difendere a tutti i costi il mondo in cui vive, la sua dimensione, non vuole che niente lo intacchi, quindi tutto quello che riguarda il mondo esteriore non deve assolutamente entrare nel regno. È una ragazza molto determinata, molto austera, che ha anche in fondo le fragilità ma non si permette di accettarle, cioè non si permette di viverle, è cresciuta in un mondo in cui lei non può avere fragilità, è una principessa, ha tutto il mondo ai suoi piedi e deve fare la parte della persona che pensa solamente a difendere il proprio mondo, che comunque è sempre e costantemente in pericolo, essendo nel ventunesimo secolo in realtà. Senti, a proposito di questo, ci dice tante cose questo film, ci dice anche, ce lo dice proprio Lisa, che non sono le epoche brutte, sono gli uomini che le rendono tali o pericolose, ovviamente sei d'accordo, e c'è qualche cosa che oggi ti può far pensare questo? Cioè che anche la nostra epoca potrebbe essere migliore con uomini migliori? Migliore? Potrebbe essere un paradiso, nel senso anni luce da quello che stiamo vivendo, io credo. Sarà che ognuno odia l'epoca in cui vive alla fine, quindi vediamo sempre i difetti e non vediamo mai le cose positive del periodo in cui viviamo. Detto questo, la nostra pesante, credo che sì, gli uomini stanno in questo periodo più che mai, forse con l'avanzamento del progresso tecnologico, comunque dei social e tutto, stiamo diventando molto più impersonali, molto meno legati alla comunicazione, sia verbale che fisica proprio, non abbiamo più bisogno di avere questo contatto con le persone e penso che in qualsiasi epoca accadesse questo, sarebbe una grande perdita per l'umanità, cioè a livello umano, cioè prima di tutto siamo esseri umani, invece stare dietro degli schermi, poi stiamo attraversando un periodo molto difficile e gli schermi sono stati il primo mezzo di comunicazione ultimamente a causa appunto della pandemia, eccetera. Credo che possano essere un'arma a doppio taglio e che stanno rivelando entrambi i lati adesso, e gli uomini devono essere in grado di usarli nel modo giusto per rendere questo periodo migliore. Fotini, dal medioevo per quanto ricostruito a un'estate a Riccione, no? Tu sei tre protagonisti di Sotto il sole di Riccione, lì invece è una persona, una ragazza completamente diversa. È il mestiere dell'attrice. È il mestiere dell'attrice, ma io non sono un'attrice, faccio economia. No, e sì, devo dire che il fatto che escano così ravvicinati questi due film mi ha messo in crisi. Cioè io ho avuto uno sdoppiamento di personalità, faccio conferenze con Netflix da una parte, con l'altra con la Fandango e persone del medioevo, dall'altra parte Riccione, party, festa, cioè calmiamoci ragazzi. Sì, detto questo, in realtà, a parte lo scombussolamento iniziale, penso che il fatto che escano così vicini questi film è anche un piacere vederlo, nel senso che ho un grande confronto e un'estate del genere a Riccione è un po' l'estate che forse sogniamo per liberarci della situazione appunto attuale, quindi penso che sia un momento assolutamente adatto in realtà per farlo uscire. Sì, può scaturire un po' di nostalgia, ma l'intento di sicuro non è quello, cioè l'intento è di far vivere e libere le persone per uscire dai quattro muri di casa, immaginarsi sulla spiaggia. Quindi sì, i personaggi sono molto differenti. Diciamo che mi è sempre piaciuto identificare Gwenda di Sotto il sole di Riccione un po' come una snob, una snob raffinata però, una snob di alta classe. Questo possiamo a grandi linee ritrovarlo anche in Lisa, anche se Gwenda viene dalla borghesia del XXI secolo, mentre Lisa è la pasta di parecchio, nel senso che è proprio una principessa, c'è il sangue blu. Quindi l'austerità di sicuro di Lisa nel Medioevo non la ritroviamo in Gwenda. Forse in Gwenda si ritrova attraverso i social e la freddezza che lei utilizza ponendo questo mezzo tra lei e la realtà. Potrebbe capitare a te di scoprire che qualcuno è innamorato di te da tanto tempo senza che tu te ne sia accorta o abbia fatto finta di non accorgertene? Ecco, brava. La seconda che hai detto. Preso, è la seconda. Io penso possa capitare ma a me non è mai capitato che non mi accorgessi di qualcosa. Ho la presunzione nel mio piccolo di dire che capisco abbastanza bene le persone a primo acchito e soprattutto con le persone con cui ho un contatto mi rendo conto di quello che provano. È molto difficile che io non mi renda conto di una situazione. No, non mi è mai successo che io abbia fatto finta. Sì, mi è successo ma perché conviene purtroppo a volte. Per cercare di non rovinare le cose non è la strada migliore. Assolutamente, non fatelo, però a volte conviene forse dare tempo al tempo è la cosa migliore quindi anche per far maturare veramente le sensazioni che ci sono sotto sotto. Comunque Fotini Paluso non è un'attrice quindi la salutiamo, fai economia? Sì, faccio economia e adesso mi laureo. Perfetto. In bocca al lupo, congratulazioni. Grazie, grazie, ciao.